Lo Stato russo ha venduto il 19,5% del gigante petrolifero Rosneft a un consorzio di investitori internazionali composto da Glencore e dal Fondo Sovrano del Qatar. La transazione, annunciata dal Cremlino mercoledì nel tardo pomeriggio, si basa su un accordo da oltre 10 miliardi di euro che permette a Rosneft di recuperare il proprio deficit entro il 31 di dicembre.